per capire allora come si muove una macchina di Formula 1, non a mano posto quindi possiamo andare su Youtube che è sicuramente il posto migliore dove poter trovare video di reference per questi argomenti e cercare un argomento comunque inerente a quello che stiamo a cercare quindi Formula 1 Ferrari 2001 per esempio e troviamo sia video di videogiochi ma anche riprese reali o ancora meglio cercare con il nome ad esempio Schumacher Brasil 2006 che è una gara a Interlagos un po' particolare o via dicendo naturalmente cercando il nome del pilota è più facile trovare qualcosa di più interessante una cosa particolare del monoposto di Formula 1 è che sicuramente non hanno o perlomeno questo è quello che può sembrare a noi spettatori da fuori e comunque tramite anche le riprese da Leon Bohr Camera non hanno delle oscillazioni laterali o comunque non hanno un effetto di oscillazione verso l'esterno e verso l'esterno se esiste è veramente minimo, come è minimo magari l'effetto degli ammortizzatori di fatti se vediamo, ad esempio in questo video, vediamo sì che ci sono dei sobbalzi ma al momento magari di passare su una superficie che non è un asfalto liscio perfettamente da gara diciamo non fa parte dell'asfalto da gara, di una pista da gara abbiamo sui cordoni magari un effetto di sobbalzo un po' particolare oppure quando la macchina prende parecchia velocità abbiamo sempre questo effetto un'altra cosa particolare delle macchine di Formula 1 o comunque degli effetti per poter dare maggior realismo è quello dato dal pilota di fatti nel nostro modello ci sarà anche un pilota e vedremo come poter realizzare l'effetto di piegatura diciamo così del casco in fase delle curve stesse ora magari queste riprese non è molto evidente ma se vediamo altre riprese, altri filmati un altro aspetto mentre cerchiamo questo pezzo qua molto particolare è che le monoposto quando affrontano una curva l'affrontano sempre una curva tramite delle tangenze quindi non avremo mai degli effetti sia sul volante quindi sul volante non ci sarà mai un incrocio diciamo delle braccia quando c'è l'incrocio delle braccia proprio in senso tecnico in Formula 1 si dice che sono andate a incrociare le braccia vuol dire che ha sterzato molto violentemente solitamente il volante non supera quasi mai 90-95 gradi rispetto alla sua posizione iniziale questo perché lo sterzo appunto è molto molto limitato di conseguenza tutte le curve vengono affrontate tramite delle tangenze quindi si parte verso l'esterno per poi stringere verso l'interno e quindi si usa appunto la tangenza stessa in rari casi si ha l'effetto di sterzatura massima per esempio se vediamo in questo sorpasso possiamo notare due particolarità sia l'effetto del casco che si piega in questo caso quello di Raikkonen sia le maniche e comunque il volante che non si piega mai oltre una certa ora qui si era sul rettilineo ma non si piega quasi mai come in questo caso oltre i 90-95 gradi in rari casi si piega 90-95 gradi mentre si piega parecchio la testa che accompagna comunque il volante quindi accompagna la fase della curva questo anche l'ultima gara di Schumacher in Ferrari vedremo proprio l'effetto sia del volante che si piega solo in rarissimi casi quasi oltre i 90 gradi come in questa Chicane ma poi appunto il casco che segue perfettamente tutte le curve e notiamo anche come gli ammortizzatori sono veramente minimi a livello di sobbalzi quindi quello che noi andremo a creare sarà sicuramente un effetto di ammortizzatore e anche un effetto poi di notiamo anche che la piegatura è veramente minima e notiamo come vado a disegnare delle traiettorie sia in questo lato per realizzare dei sorpassi sia per affrontare la curva naturalmente quando non si affronta bene la curva si fanno incidenti e quindi abbiamo aspetti che possiamo un attimo anche valutare sia dai presi reali quindi quando si tratta di un oggetto puramente reale è molto più facile riuscire a analizzarlo nella realtà e quindi riportarlo poi dopo nella computer grafica questi sono degli aspetti abbastanza importanti osservare bene la realtà per poi dopo riportare tranquillamente quello che vediamo cercare di riportare quello che vediamo al 100% per poter avere poi degli effetti ottimali in fase di lavorazione grazie a tutti